Al inizio non pensavo mai che dietro le telecamere ci sono milioni di persone che mi stanno guardando. Oggi lo so e voglio che vedano tutti quanto cantare sia importante per me. Ma guarda Riccardo come si è fatto carino, che bel sorriso che ha. Eri un pochino più cicciottello da piccolino. Io canterò Una Rosa Blu di Michele Zarrillo. E allora bentornati, sempre in diretta, ti lascio la canzone Big. Dopo Beatrice Pezzini è in gara, qui sul palco con me, Nicola Cardinale con Una Rosa Blu, Michele Zarrillo. Grazie. Una Rosa Blu sulla pelle tua Mi ricordi l'ombra snobbe bionda con un filo tifoli. Dico non di te, pare che ci stai. Che ti scanti presto, che poi tu non ti arresto e non ti leghi mai. Ma se fossi mia, io ti legherei. E con un laccio al cuore che ti faccia male quando te ne vai. Io sulla pelle, io in me lo scriverei che mi piacciono perché sai come sei. Con un tatuaggio e con quella rosa blu. E il tuo coraggio è la tua risorsa in più. E ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega ma si doveva andare così. E non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo. Quando saprei di più sul seno la tua rosa blu. Ma una rosa blu sulla pelle mia. Ma me ne accorgo adesso passo dopo passo che non va più via. Adesso la parola ai nostri giurati. Chiara. Ecco. No, così. Beh, allora. Oggi, stasera sono stata sempre in difficoltà, non so più che cosa fare. Allora, io devo dire che devo per forza di cose votare Rita perché ci ha sconvolto. Però sono anche curiosa di sentirti cantare altre cose dove puoi magari interpretare di più. Però sei innegabilmente proprio bravissima. Però mi si è piaciuto anche molto anche tu. Però una scelta bisogna farla. Quindi tu vuoti Rita. Fabrizio, infatti vedete le nostre note che si compongono. Allora, sei stato bravissimo Nicola, la canzone splendida di Zarrillo. Però Rita mi ha proprio emozionato profondamente con un'interpretazione straordinaria. Quindi perdonami ma voto Rita. Due note per Rita. Lorella. Devo dire che Nicola sei stato sfortunatissimo a capitare in questo terzetto perché sei stato veramente molto bravo. Anche una bella timbrica. Però io poi fra l'altro insomma con un pezzo da musical come Memory in Cats si può cantare solo se veramente sia al top. E devo dire che tu l'hai proprio interpretata Rita in una maniera di grande grande emozione. Quindi anch'io do questa nota a Rita. Che è la terza nota. Massimiliano Panni, anche se tu sei presente di giugno, diciamo, la nota d'oro la devi dare tu. Sì, io l'oro me li ricordo. Rispetto ai miei compagni di giuria io faccio un po' più fatica a dover dire ho preferito la tua esecuzione di quell'altra. Perché io ho visto i bambini veramente, cioè me li ricordo e ci sono affezionato. Sicuramente però è Rita che stasera ho preferito tra le due esibizioni. Bene, Rita Cicarone passa al turno. Nicola, tu puoi andare là nei riprescati perché è possibile che poi invece ti rivediamo. Prego Rita. Highlights. Voi invece chi avreste ripescato potendolo fare? Io avrei ripescato Nicola. Nicola, tu Fabrizio? Tanto non conta niente perché...